Ritorniamo al Back to Black, quindi in questo caso parliamo sempre della forma Mohawk e naturalmente in questo caso la troviamo interpretata con questo tacco decisamente più rigoroso, più grosso, più assolutamente un ritorno a una scarpa ricercata, particolare, femminile ma che ha sempre protagonista e assolutamente sia nel tacco basso che anche nel tacco alto ritroviamo lo stesso dettaglio, lo stesso rigore ma la stessa pulizia nei dettagli delle linee ma l'attenzione a una serie di abbinamenti che ritengo fondamentali per la collezione autunno-inverno di Casa Dei che sono il nero e l'oro.